Da quello meccanico a quello vivente, passando per le tante rievocazioni della nascita di Gesù nelle varie comunità della provincia di Arezzo. Al santuario di Santa Maria del Sasso, Bibbiena, ad esempio, il filo conduttore di quest'anno è la speranza. Il Natale è questo, santificare la nascita di Gesù e mettere da parte quel consumismo che invece ha ormai investito questa sacra festività. Il presepio è meccanico, è possibile visitarlo a Cigiano, piccolo borgo del comune di Civitella in Valdichiana, dove la comunità a tutti gli anni si riunisce di fronte a questa rappresentazione che, grazie agli artigiani locali, riproduce la nascita di Gesù ambientata nel piccolo ma delizioso paese. Ambientazione nel paese, in questo caso però, di Badia Prataglia, anche per questo presepe che ogni anno rinnova la sua tradizione. Presepe meccanico anche a Castiglion-Fibocchi, dunque Valdarno-Aretino, nei locali della canonica della parrocchia Santissimi Pietro e Ilario. Nella città di Arezzo è possibile ammirare il presepe nella cattedrale, nella pieve di Santa Maria e nella chiesa della Badia. E poi le rivocazioni del presepe vivente, anch'esse numerose, da quello più celebre di Monterchi, in Valtiberina, il 26 e 29 dicembre e il primo, il 5 e il 6 di gennaio. L'unico presepe vivente che sarà invece rappresentato il giorno di Natale è quello di Pietraia, a Cortona, un presepe che si snoda in un suggestivo bosco. Le rappresentazioni saranno oltre che nella giornata del Santo Natale anche il 26 e il 29 dicembre, dalle 17 e 30 in poi. Rimanendo in Valdichiana c'è un'altra tradizione che si rinnova ed è quella del presepe vivente a Castiglion-Fiorentino il 26 dicembre, a partire dalle 17 e 30. E poi c'è il presepe vivente di Oliveto, nel comune di Civitella in Valdichiana, qui a darsi da fare per rappresentare al meglio la nascita di Gesù e l'intero paese. Sarà possibile visitarlo il 26 e il 29 di dicembre. Presepe vivente anche in una frazione del comune di Arezzo ad Antria, il 29 e il 30 dicembre e il 5 di gennaio.